I temi tanti, quelli affrontati, soprattutto dal punto di vista di tematica ambientale e sostenibilità, il fatto che si sia realizzato e Castiglioni sia progetto pilota nella Green Beach e quindi una realizzazione di una spiaggia verde di cui siamo modello ma che vogliamo estendere a tutto il G20. Un'altra ordinanza importantissima accanto al Plastic Free che si estenderà al G20 sarà lo Smoke Free e quindi non fumare sulle spiagge, soprattutto per l'abbandono dei mozziconi, non tanto per ghettizzare i fumatori da questo punto di vista. Prosegue con successo a Castiglione della Pescaia il G20 spiagge, summit delle 20 principali località balneari italiane, numero salito quest'anno per volontà degli organizzatori a 26. Qui noi stiamo presentando un progetto sul riusso della Posidonia che è un problema perché è un rifiuto netto, cioè si spiaggia, poi deve essere raccolto e trasportato in discarica con dei costi molto importanti anche per l'ambiente. Ciò che abbiamo fatto noi nell'ultimo anno, grazie al contributo di SEI, Toscana è lo studio di possibili alternative. Abbiamo sviluppato dei nuovi materiali, sia da un punto di vista delle possibilità cosmetiche, per cui queste Posidonie producono molte molecole attive che possono essere utilizzate in cosmetica, sia da un punto di vista del materiale secco che può essere utilizzato per produrre imballaggi o supporti o coibentazione e quindi diciamo quello che fino a poco tempo fa era un rifiuto, oggi diventa un materiale da utilizzo. Tra i vari temi affrontati nel secondo giorno di lavoro, anche quello dei rifiuti, con la presentazione da parte di SEI Toscana delle nuove attrezzature di raccolta in dotazione a molti comuni costieri. Questi sono i nuovi cassonetti, quelli che installeremo in autunno sono i famosi cassonetti intelligenti che abbiamo già messo a disposizione dei nostri comuni, ma la particolarità è che si apriranno con questo. Fino ad ora vengono aperti con la tessera magnetica che SEI conferisce alle famiglie. Da oggi questi nuovi cassonetti potranno essere aperti con il cellulare. Grazie. Grazie.